Il deputato Di Stefano a titolo personale, un minuto. Grazie Presidente. A me piacerebbe tanto dare ragione quando si parla di sprechi o di ruberie nelle istituzioni per contratti pubblici o privati, ma mi pare che qua non si vada tanto nel merito del contratto pubblico o privato, bensì si vada nel metodo, ovvero l'ho piazzato io o l'hai piazzato tu in questi ultimi vent'anni. E nel metodo siete tutti uguali, questo ve lo posso confermare. Aggiungo che chi continua a parlare di difesa delle istituzioni e non difesa delle istituzioni è lo stesso che proprio ieri ha salvato il Governo sull'articolo 138, ovvero la Lega. E aggiungo anche che qui, siccome ci teniamo davvero tutti, credo, al rispetto e al ruolo delle istituzioni, dovremmo iniziare ad agire nel merito del rispetto e quindi in prima persona, facendo in modo che questo Parlamento inizi realmente a rendere queste istituzioni onorevoli, come ci piacerebbe che fossero. Questo è quello che dovremmo fare, è smetterla di fare ideologia destra-sinistra comunisti e fascisti, perché qui dentro le ideologie sono superate, dovremmo andare oltre. Grazie.